ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video eccoci qua con un altro stupendo si spera episodio della rubrica i vostri video praticamente di cosa stiamo parlando di voi che mandate i video possibilmente realizzati in orizzontale e che ci mostrate tutti i vostri belli orologi che avete collezionato nel tempo simpaticamente insomma e noi poi li guardiamo assieme li commentiamo io li commento qua voi li commentate sotto e spesso si scoprono degli orologini che non siano mai visti delle chicche no oggi non voglio far troppi discorsi da vi mostro subito l'orologio del giorno che oggi è l'emilton intramatic cronografo a carica manuale con il suo quadrante reverse panda cioè che è nero con i sottocontatori chiari orologio di 40 mm di diametro cassa sul quale ho montato il cinturino racing questo qua nasce con il l'ho preso io con il bracciale a maglia milanese che non l'ho mai usato magari una volta perché poi mi sono subito fatto fare questo quartigianale così nero con le punture panna che riprendono i sottocontatori che mi garbicchia tanto e quindi è rimasto così me l'ha fatto l'amico jonco straps che fa i centurini artigianali per tutti i gusti bando discorsi inutili primo video dai fuoco alle polveri buongiorno davide allora piccola premessa prima che lei blocchi il video per fare commenti sulla mia tovaglia non commenti la tovaglia di mia madre per la seconda volta ok non si permetta d'accordo vabbè seconda cosa sono il ragazzo che appunto aveva già fatto un video per lei signore e doveva commentato tutti i miei orologi ciofeca vabbè ci stava e avevo distrutto due orologi presi da aliexpress mi chiedo scusa a tutti gli utenti che mi hanno attribuito il il copiare del del famoso di rolex falsi ma purtroppo non l'avevo ancora visto questo personaggio famoso quindi mi dispiace per voi ma seconda cosa iniziamo basta basta chiacchiere allora dopo il video vabbè ultimo orologio acquistato in quel video era questo rs w che sta per rami swiss watch diciamo è una buona casa mi sono un attimo informato sulla storia diciamo che sembra buona come casa far orologi adesso un po discreti ma dentro di sé ha un età scusami non mi ricordo sinceramente non mi ricordo quale età comunque credo che sia solamente uno che faccia questi tipi di modelli con la data è il giorno allora dopodiché va bene avevo visto su un vostro visto un tuo video un un orient tristar sono andato pazzo di questo orologio è stato cercare su crono su o su ebay ho trovato su ebay da un da un ucraino e alla fine l'ho acquistato per 60 euro diciamo un bel acquisto un orient 38 64 ovviamente mi sbaglierò ma comunque cos'è un 38 millimetri di lag to lag qua della cassa mentre oh non so i termini vabbè sono impreparato sono veramente impreparato mi spiace non rifarò il video per la quarta volta oh signor dopodiché belli guanti eh sì dopo di che sono andato con un orologio un pochettino più di qualità bello questo un tagoyer acqua racer con il suo bellissimo movimento sellita sv200 devo dire 300 metri di profondità corona che si svita ad avvitamento avvitamento con questa lente magnificatrice questa lente ma se può c'è problemi questi piccoli diciamo cavalieri che un po richiamano anche il il brightling diciamo carino veramente mi mi dà molte soddisfazioni bravo mi dà molte soddisfazioni ah vedi qualche termine lo sai dopodiché ultimo orologietto ero molto ero molto voglioso di prendermi un orologio classico un orologio elegante bravo ho cercato 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 e sono andato a finire su un seiko un gran seiko anzi un king seiko del 67 ho fatto una ricerca di uno due mesi su ebay e su crono 24 alla fine sono finito su uno su ebay ho capito che sembra lasciato benissimo tutto il resto lasciato alla fine ho preso questo che ovviamente non è un king seiko porca di quella miseria perché è un seiko monster dalla referenza skx 79 devo dire l'ho acquistato su ebay ma ho visto che la stessa persona che lo vende su ebay anche sul gruppo telegram mercatino di orologi devo dire bello proprio questo qui me lo metto quando voglio non so dire non me ne frega una mazza di quello che potete pensare veramente veramente non brutto cioè è bello per la sua bruttezza per la sua aggressività diversità dagli altri orologi poi mi sono informato sia sul seiko monster e sia sul king seiko sul gruppo seiko 1881 devo dire davvero davvero bel bel gruppo bel sito per informarsi sulla storia di tutti quanti i seiko davvero davvero bello quindi prossimo prossimo orologio sarà sicuramente un king seiko del 67 con logo di diani diani non mi viene il termine corretto dopodiché da un anno sto cercando un bellissimo bright link wind rider o wind a 10 350 e appunto i miei prossimi orologi su cui mi concentrerò mi concentrerò concentrerò sono i brightling non il nibi timer però i brightling cronomat e wind rider e anche gli omega omega sia vintage sia quelli un pochettino più moderni bravo perché comunque mi interessano queste due case sono davvero delle case molto molto interessanti soprattutto il brightling mi dovranno arrivare altri libri e mi voglio informare il più possibile e dopo mostrare a te tutti gli orologi possibili e in immaginabili su queste due case va bene davidone mi spiace se le ho fatto perdere sei minuti della sua vita con questo bruttissimo video love love va sei anche simpatico sei un bravo ragazzo poi mi dai di lei questa cosa mi fa bestialire però vabbè è un altro discorso c'è un po di problemi con i termini a trovarli a pronunciarli concentrerò concentrerò c'è molto semplice no vabbè cosa quelli sono loro il monster è bello il monster è aggressivo è spigoloso è scorbutico no non è un orologio da indossare a una cena di gala non è un orologio da utilizzare come esempio di dress watch è nato per tutt'altra roba e quindi ha la sua personalità forte e te lo appoggio è un bello orologio non so se lo comprerei ora come ora mi è anche venuta cioè qualche anno fa non lo sopportavano adesso invece quasi quasi mi piace anche da da comprare siamo arrivati a questi punti si cambia i gusti cambiano ragazzi non è che uno deve rimanere fisso sul proprio no sempre dico che la coerenza non è pensarla sempre allo stesso modo ma la coerenza è avere la capacità di riconoscere quando si sta cambiando allora sì che sei coerente sto cambiando questa cosa qua ho deciso di non farla più ho deciso di mollare quel tipo di vita la coerenza ti porta a seguire il tuo pensiero saresti incoerente a continuare sempre quel percorso pur sapendo che stai cambiando opinione va bene mi sembra che sono mi sono addentrato in un in un campo minato prossimo video ciao davide ciao saluto a te a tutti gli amici del canale mi presento sono andrea ho 34 anni e sono appassionato di orologi almeno da 20 iniziai già da ragazzino ad affascinarmi a questo mondo e adesso ho piacere di raccontarti un attimo la collezione che ho costruito nel tempo ringrazio soprattutto una mia collega che mi ha spronato per fare questo video che da tempo che mi dice manda un video a davide così ci facciamo due risate e quindi colgo l'occasione ciao elena ciao elena allora il primo orologio che vidi da piccolo fu questo bon mercier riviera acciaio e oro era l'orologio di mio nonno lui lo prese alla fine degli anni 80 inizio anni 90 io nacqui nel 1990 quindi da che ho memoria mio nonno aveva al polso questo orologio mi ricordo che spesso glielo chiedevo per tenerlo in mano per vederlo insomma ero già affascinato e adesso purtroppo mio nonno è venuto a mancare da circa un paio di spiazze e quindi questo orologio è passato a meglio fatto dare una bella sistemata una revisione e adesso me lo tengo e sono davvero molto felice ricordo che ogni volta che lo vedo mi fa ritornare alle memorie di quando ero piccolo siccome il bon mercier fu il primo orologio che io vidi da piccolo decisi di comprarmi dopo i primi lavoretti un bon mercier fantasia acquistai questo bon mercier malibu un cronografo anche questo è da 77 50 il quadrante potrebbe sembrare poco leggibile perché bianco con indice sfere argentate in realtà alla luce riflette molto magari la telecamera non non gli dà sufficiente giustizia se lo dici tu il disegno mi piace e ha un diametro che all'epoca soprattutto era ottimale per il mio polso perché un cronografo da 38 mm io al polso dalla alla circonferenza 15 cm è minuscolo e quindi io gli orologi sopra i 40 41 non li posso una signorina sei dopo di che dopo i primi lavori e vusi all'università mi presi questo e vusi portoghese portoghese la versione con quadrante in argento sfere in oro numeri arabi applicati in oro è un altro design iconico vedrai adesso che ci saranno un po dieta 77 50 ma onestamente non mi interessa tanto del calibro che montano all'interno gli orologi mi interessa di quanto sono iconici della storia della maison che guarda ti do ragione cioè ci vuole un sano equilibrio no interessarsi ai calibri cercare di avere qualcosa di particolare qualcosa di ma poi a fine della fiera se l'orologio piace ma non mi interessa se dentro c'ho il 77 50 come ho altri tre o quattro orologi proprio zero vuol dire io a volte sto attento ad esempio con lo speedmaster ho aspettato che uscisse proprio il calibro quassiale perché non in quelli precedenti erano gli unici rimasti che non erano quassiali certificati metas io ho voluto aspettare c'è un motivo ben preciso ci può essere poi il bright ring ho preso il cronomat gmt con il calibro di fornitura all'interno oppure compre orologi dove ci sono i calibri che sono utilizzati anche da altre case voglio dire il calibro che utilizza emilton è riconducibile a quello che utilizza tisso orado non è che ce ne frega più di tanto no quello che conto è l'orologio ti piace l'orologio è per me conta anche il marchio il marchio inteso come chi c'è dietro affidabilità personalità interesse questo non che la scritta il marchio da mettere in mostra l'azienda l'azienda che c'è dietro che sia qualcuno che ti offre qualcosa un valore aggiunto cioè a un certo punto uno arriva a dire non tanto dovrebbe arrivare non tanto a dire questo orologio fa per me non fa per me ma mi interessa questo marchio o non mi interessa perché gli orologi fatti bene li fanno tutti le tipologie di orologi simili le fanno tutti quindi quando sei lì che vedi un orologio di questo marchio mi interessa averlo in collezione oppure no se l'orologio è fatto bene che piace che tutto no sì che ne so è uno squale sì mi interessa avere uno squale in collezione mi piacerebbe proprio avere uno squale prendo lo squale capito e li appartiene e quindi del contributo che ha dato nel mondo dell'orologeria passando ad oltre eccolo questo è un orologio che ho cercato per tanto tempo e finalmente l'ho trovato qualche anno fa il brightling cronomat 81 950 baracciale rullo ora ho imparato dirlo oppure a cartucera proprio detta così alla spartana bello certo ce ne sono di meglio è di questo con il quadrante bianco così ma i sottocontatori piatti è un po quello meno meno interessante quello blu con i contatori dorati secondo me più carino con il quadrante in color avorio invece che il classico blu con i sottoquadranti in oro ma questa era la mia versione preferita ci ho messo un po a trovarla è un buono stato ovviamente di secondo polso tutta originale e lo trovo un orologio magnifico con il disegno della cassa inconfondibile è certo un altro pezzo che sicuramente non lascerà mai la mia collezione bravo passiamo a un altro orologio che indosso al polso perché sono scemo mi sono dimenticato di toglierlo concordo il rolex submariner top 16 610 lunetta nera questo fu un regalo di laurea da parte di mia madre ci tende molto a regalarmi un bello orologio e quindi decise di regalarmi questo bravo io lo adoro lo portai per davvero tanti anni infatti molte persone che mi hanno conosciuto nel corso della mia vita mi hanno conosciuto con questo rolex al polso io sono innamorato lo indosso spesso ma ovviamente avendo adesso acquisito più orologi tendo a farli ruotare bravo dopodiché avevo intenzione di prendere un gmt e recentemente è uscito uno dei gmt che a mio avviso sono i più belli o fra i più belli presenti sul mercato il longin spirit zulu time da 39 milioni ripeto io rimasi già innamorato circa un anno fa quando usci la versione da 42 ma l'ho provata al polso e faceva molto ridere mi usciva da tutte le parti non lo potevo indossare con enorme rammarico quando ho scoperto che avevo l'intenzione di fare il 39 mi sono precipitato in negozio e l'ho subito preso anche perché avevo già da parte un ammontare per un gmt e quindi bravo era dentro i miei budget ed è perfettamente dentro i miei gusti a proposito di longin vi faccio un annuncio così qua è un passato un piccolo spoiler è previsto durante l'anno durante il 2024 l'uscita di un orologio con che esiste già catalogo con diametro da 38 mm vanno ripicciolito quindi vi faranno contenti dopodiché ti mostro i miei vintage non ne ho tanti ne ho tre ma ognuno di loro adempi al suo scopo zenith stellina top classe 1960 tutto originale in oro giallo questo è un dress watch per eccellenza dal mio punto di vista elegantissimo semplice e con un calibro molto affidabile monta un 40 t e ricarica ci piace dopodiché un acquisto che ho fatto lo ammetto per fortuna perché è solo fortuna quella trova di trovare questi pezzi è questo omegasy master day date del 1968 tutto completamente originale amma mia che finiture new old stock aveva ancora tutte le plastichine che finiture calipro 752 a ricarica automatica e è un anche questo lo annovero fra i dress watch ma sicuramente con un design un po più sportivo è certo che bello originale con anche fiber di lione originale che quello che ha avuto porco giude per ultimo decisi di comprare un cronografo vintage e il mio preferito in assoluto era l'eberhard 14000 questo è dovrebbe essere 14000 e 3 a ricarica manuale tutto originale sia le sfere che la cassa mamma mia la corona di carica l'ardiglione tutto quanto anche anche il cinturino e il suo del del 1957 questo orologio mi arrivò con due quadranti uno acquistato aftermarket che è questo acquistato dalla eberhard che decise a un certo punto di ritirare tutti i quadranti vecchi e ristamparli e quindi questo è una ristampa ma ho anche il suo quadrante originale del 1957 che ho intenzione di fare un po pulire perché più la maggior parte di quello che c'è sopra non è ossido ma è sporco sì fallo pulire ma guarda io sinceramente avrei lasciato avrei preferito questo a quello la troppo pulito perché poi si legge è tutto è quasi tutto perfetto sì è sporco ora il rischio che c'è la devi far fare a qualcuno di un professionista il rischio che a pulirlo si fa si sporca ancora di più le mente quando ti metti lì con un cotto fioc e poi la macchia si allarga incomincia a magari a cancellare anche i numeri che sono sotto a farlo fare da un professionista e poi di farlo mettere bravo e l'ultimo cos'è cos'è l'unico quarzo che ho in collezione un hublò mdm se lo mette a fuoco molto difficile questo perché è nero eccolo qua lo trovo un orologio molto delicato molto bello è l'unico chiamiamolo fondo nero a quadrante nero con i particolari in oro lo indosso spesso più che altro agli eventi le cene di lavoro più che altro e o quando dobbiamo andare via me lo porto sempre perché lo trovo un orologio molto elegante e molto bello credo che sia anche l'unico design effettivamente apprezzabile di hublò che ultimamente sta esagerando un po troppo da un punto di vista di disegno mentre se si ricollocasse un po in linee più semplici e anche più studiate farebbe una gran bella figura perché effettivamente sono capaci di farle ma chiudo con gli orologi della mia compagna che anche lei colpa colpa mia è venuta la scimmia piccolino bon merci e linea al quarzo acciaio e oro anche questo bello rigato ma perché lo indossa spesso comprato assieme al longin spirit zulu time carino il longin master collection con gli indici brilli brillantini ricarica automatica e le piace molto indossa anche questo spesso e poi ultimo ma un ultimo breitling callistino anche questo un orologio iconico della breitling sono un po dispiaciuto del fatto che non lo facciano più perché davvero un orologio molto bello per polso femminile la ghiera in oro bianco con i brillanti incastonati e tutti gli altri particolari in oro giallo cavalieri corona di carica e sfere indice un bijou va bene davide io ho concluso ti faccio vedere l'ultimo orologio che fa parte di quelli poco seri che indosso quando devo andare fuori con i miei amici e dobbiamo fare un po di risate il mio bellissimo ingerson topolino al quarzo che comunque sia ha il suo perché lo indosso spesso ogni tanto lo indossa anche la mia compagna io ho concluso spero che la collezione ti sia piaciuta quindi colgo l'occasione per augurarti un in bocca al lupo per la crescita del canale nel futuro e tante care cose sia a te sia tutti gli amici ascoltatori buon 2024 a presto buon buon 2024 mi ci mancava che l'augurio a marzo buon 2024 porco giuda va bene dai ci ho fatto caso alla fine quando hai fatto vedere lui che tra l'altro c'è scritto mdm quindi era ancora mdm e i blue era semplicemente il nome del modello sembra mi sembra di aver capito con il quadrante nero che e poi c'è il submariner nero al polso poi gli altri tutti i quadranti chiari a parte dello zluta e blu prediligi i quadranti chiari cosa che faccio fatica io per mio per avere un orologio del quadrante chiaro deve essere ben leggibile deve avere un bel contrasto deve essere particolare diciamo così se no preferisco tutti quelli scuri nero in primis blu in secundis e poi chi più ne ha più ne metto comunque dai belli orologi c'è un bel cronomatino belli soprattutto i vintage quello mega ragazzi quello mega lì degli anni 60 che hai preso nos cioè ha ancora i biselli e le lucidature le satinature come se fosse un orologio nuovo e ti fa capire come era immaginati adesso a noi ci piace ci cade la mascella a guardare questo orologio immaginati un po nel 62 di quando era te lo ritrovavi lì in vetrina era una botta una botta di vita incredibile bravo belli orologi complimenti ciao davide ciao a tutti gli amici del canale amici io ti ho già mandato un video in precedenza adesso ti mando questo breve video per farti vedere i miei nuovi acquisti iniziamo con l'orologio del giorno bellissimo lanco degli anni 60 1100 mai visto per quel che l'ho pagato davvero bello eccolo qua un altro esempio di quello che a me non piace quando vedo certi orologi vintage la lunghezza della sfera ore e quella dei minuti che sono così simili da confondere le idee ora qua io non sopporto sta cosa qua bello questo quadrante con questa lavorazione questi sono lunghe uguali bronzo è un gran bell'orologio guarda se diciamo che nel vintage molte volte con sui 100 euro si trovano dei belli orologini concordo poi ho acquistato questo mido oggi a star tribute ci piace millimetri ciò che mi ha fatto innamorare di questo orologio è il bracciale anche se come si può vedere la clasp si riga solo a guardarla però va bene così gli orologi hanno vanno accettati con i loro pregi e loro chiamano i difetti vetro bombato questo orologio ha sostituito nella mia collezione il l'emilton cacchi navi scuba e da 40 credo anche se sono della stessa più o meno della stessa fascia di prezzo di aver fatto un upgrade perché la qualità è è superiore soprattutto nel bracciale oltre al design comunque molto comodo anche se il calibro è molto simile questo anche la finestra giorno comunque un gran bel orologio sì la qualità è paragonabile non è che c'è un upgrade o un downgrade siamo lì il calibro lo stesso questo qua c'è al day date a questo livello il design che può fare la differenza del tribute è un orologio che mi è sempre piaciuto per il design semplice come per il bracciale che ha per i quadranti con quegli indici rettangolari si fa questione di gusti non è che un upgrade o un downgrade infine è l'ultimo arrivato anche questo un vintage un world travel 990 cosa era da un po che cercava un rado vintage visto questo qua e con bracciale bracciale originale corona originale vetro originale degli anni settanta è un l'ho sentito un gran gran bello orologio mi piace tantissimo e 35 millimetri l'ho pagato un pochino meno in quanto il bracciale non ha maglie aggiuntive e con la prolunga aperta arriva a polsi da 17 e mezzo più o meno però io ho un polso da massimo 16 quindi va bene va bene così e nulla volevo sapere cosa ne pensi di questi tre pezzi anche se il mido l'abbiamo già visto e rivisto sul canale e niente grazie per i contenuti che porti sul canale ciao a tutti buona serata buona serata a te questo rado qua 990 world travel non lo conosco mai sentito dire prima volta che lo vedo anche perché world travel significa viaggiare per il mondo quindi non si aspetta un gmt un ore del mondo una complicazione particolare su un solo tempo con data ho visto rosso quindi roulette la data potrebbe essere roulette cioè il numero rosso e il numero bianco no però bello 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 e golden horse mi sembra ok che ne so io sul video te l'ho già detto e lanco carino e grazie per l'aggiornamento perché è portato tre orologi di valore un valore economico ma di valore intrinseco di buon gusto diciamo diciamo così a parte quel radoli che io non ho mai visto vita mia ma sicuramente sono io che pecco di ignoranza pecco ecco bagnaia o davide complesso il tuo format è troppo divertente grazie amici del canale che lo voglio far vedere alcuni pezzi dalla mia collezione ma va un passo direttamente a questo qui un sector adventure 2000 e voglio far vedere perché l'ho lasciato dentro un cassetto per 15 anni e ribetti cielo la batteria ovviamente ha buttato fuori tutto l'acido e quindi niente per ritrovare lo stesso meccanismo ho dovuto veramente faticare tant'è che ho dovuto comprare un orologio simile e fare un copia incolla col meccanismo che copia incolla precedenza copia incolla con il meccanismo non una sostituzione un copia incolla va bene e te lo sapevo che la batteria ha visto t'ha buttato fuori l'acido è dovuto cambiare tutto il movimento chiamalo movimento tutto l'ambaradan dove c'è dentro la batteria batteria è tua nemica lasciata nel cassetto si offende e ti spara fuori l'acido invece la meccanica ti tende la mano la meccanica è sorridente hai capito non ti frega mai se ti frega ti consente anche di farsi riparare pensa un po messaggio è non lasciate le batterie dentro gli orologi al quarzo se li volete conservare poi ti volevo far vedere questo orologio è un russo volna la cosa carina di questo orologio è che ha un movimento che è il clone dello zenith 135 infatti potete vedere la regolazione a collo di cigno ovviamente è molto preciso si trova veramente a buon prezzo quindi non mi sembrava a collo di cigno non ci vuole togliere lo spizio di avere un clone del modello movimento zenith 135 ma non è mica a collo di cigno poi un orologio che ho regalato a mia moglie un'eterna con movimento eta non so quale sia sinceramente il movimento eta fondello a vista un bello orologio si belle ansia a goccia mi è piaciuto e gli ho regalato dopo di che ti voglio far vedere un orologio che ho comprato da poco e uso tanto molto spesso questo pelle costa 39 mm mi trovo benissimo anche perché sono un amante degli orologi leggeri e pertanto con questo posso dire che mi trovo abbastanza bene certo l'unico problema con questo roggio il bracciale sulla clasp che se non si sta attenti con qualche graffietto ogni tanto può uscire fuori insomma si graffia la clasp e tutti si graffia la clasp questo è una new entry tudor pelagos fxd all'inghi red bull mamma mia crono invece anche la versione solo tempo e la particolarità di questo orologio che oltre a essere in titanio ha la cassa che è in carbonio ancora più leggero del titanio il che a me piace tanto devo dire che non l'ho mai indossato per il momento però non mancherà occasione abbiamo più o meno come come il tudor fxd mnn insomma alla ghiera bidirezionale sì bello poi abbiamo questo tudor fxd mn 22 come avete capito mi piacciono gli orologi al titanio e della tutor al titanio e niente va bene ovviamente un orologio che non ha bisogno di presentazioni va bene davide a proposito faccio vedere questo l'orologio che ho al polso che un orologio che uso prende il mio daily watch è un ball watch sempre in titanio crono mi trovo molto bene bene o male alla particolarità alcuni brevetti abbastanza interessanti per esempio le i pulsanti a pompa crono sono bloccati per sbloccarli basta girare e poi attivarli stesso discorso per il reset quindi quando li vuoi bloccare fai un piccolo giro ai pulsanti bello con della vista e credo che sia un sette no anzi è un 77 50 abbastanza modificato e mi trovo molto bene anche con questo ciao davide un saluto a tutti ciao 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 notavo su questo ultimo ball che al posto dei secondi continui ad ore 9 c'era una finestrella tonda un oblò nel quale c'era metà bianco e metà blu e si i secondi continui vengono indicati da questo blu che va a coprire il bianco piano piano è uno stratagemma al posto della lancetta basta mettere un disco colorato ecco fatto che avviene questo però statisticamente parlando no concettualmente ci da qualcosa di differente così come credo abbia le fiale altrizio ce l'ha questo voi qua non lo so ho visto che c'era delle delle escrescenze sulle sfere abbastanza importanti per quanto riguarda all'uminescenza non lo so ce l'ho diretti di solito ball erano così per il resto tutto titanio è tutto tudor tudor ti piacciono i tudori in titanio meno male che qualcuno c'è perché figurati che a me uno dei tudor che mi piace di più è quello in argento che è proprio completamente l'antitesi del titanio sia come invecchiamento che come peso no vabbè però contento te contenti tutti cioè sono belli orologi per l'amor del cielo e meno male che c'è qualcuno a cui piace il titanio altrimenti se possono tutti come me saremmo rovinati prossimo video ciao davide ciao guardo ti mando questo video da roma roma premetto che ho solo 19 anni quindi nella mia collezione sono presenti moltissimi regali di famiglia brava quasi tutti ok però insomma ci tenevo ad avere una tua opinione su come si sta evolvendo la mia collezione anche con delle aggiunte che ha potuto fare grazie ai miei risparmi insomma da studente universitario bravo iniziamo con questo swatch è il tuo quarzo che ho in collezione che indosso qualche volta specialmente quando ho paura che si possa magnetizzare l'orologio magari quando vado in laboratorio questo è una nota di merito in quanto qualche mese fa avendolo ritirato fuori dalla sua scatola dato che era molto molto segnato è un orologio che si segnava molto facilmente un accioio molto molto morbido e quindi appunto mi sono messo a lucidarlo io ho cambiato il cinturino la batteria insomma è tornato a funzionare e ha avuto un po' il ruolo di far riaccendere la mia passione per gli orologi meno male qualcosa serve dopo di che ti volevo presentare un altro orologio molto entry level che ho comprato a mercatino qualche qualche settimana fa questo un comandirsky probabilmente la cassa nella sua originale come puoi vedere dal dal gap tra il quadrante e la cassa però insomma non è quadrante cassa si lo si vede anche dalla ghiera che è una di quelle ghiera così simile su un mariner che i comandirsky insomma una crocchion è una crocchion mi dispiace dirlo è una crocchion la corona non lo so perché l'hai preso se è così non si capisce una crocchion una cosa che si nota a distanza di 30 già 30 centimetri mi piaceva il fatto che avesse queste lancette diciamo altrizio che non avesse un quadrante troppo affollato la cassa mi piaceva parecchio ho capito purtroppo un orologio vintage e quindi bisogna insomma farci conti non è impermeabile ovviamente non puoi nemmeno lavarti ci le mani però insomma un orologio che metto quando insomma mi va di avere un orologio che non vale in parecchio che comunque da delle soddisfazioni quindi sì ma te lo definisci vintage ma questo qua non è vintage cioè le lancette non sono comandirsky con queste lancette qua non esistono capito hanno proprio fatto ha proprio preso le lancette un quadrante che magari l'unica cosa originale il quadrante comandirsky ma non è che ci vuole la scuola a stampare un quadrante così è anche di cartone per metterlo lì un paio di lancette prese a caso una cassa di qualcos'altro che cos'era una corona messa lì dentro chissà che movimento c'è dentro spero ci sia un movimento russo eccolo lì ti pensi che sia vintage ma non è vintage è un accrocchio e te lo dico un'altra volta lo metto un po un po per tutto ovviamente con i dovuti accorgimenti accorgimenti dopo di che volevo mostrarti quest'altro quest'altro acquisto ultimo acquisto di qualche giorno fa questo è un citizen pro master la referenza nera bello devo dire che mi ha stupito perché è molto pesante pensavo che fosse più più leggero un diver estivo 200 metri da indossare appunto queste state spiaggia l'unica nota appunto di difetto che mi sento di di appunto di far notare è questa bascula presente nella nella ghiera che sinceramente non dà una grande sensazione di pregio guarda se è la prova che avevo fatto anche io quando guardi la mia recensione prendi i due polpastrelli ti metti a fare così a tamburellare sulla ghiera e sentirai un rumore come fosse di charleston ti 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 sembra che non sia roba di qualità perché si muove perché fa rumore in realtà va bene così cioè cosa cosa vuoi cosa puoi pretendere anzi secondo me è stata costruita anche un po per ammortizzare no ammortizzare poi sempre rotto chi fa rumore sono sistemi e per ammortizzare quelli più pregiati e quelli meno pregiati che ti fanno sentire basculare come dici te basculare ma però signor orologio dai e in più appunto la presenza del vetro minerale e non zaffero minerale dopo il che volevo mostrarti questo è un cronografo vintage lucia russia una casa che purtroppo oggi è molto decaduta fa degli orologi come di restituta da centro commerciale quasi da profumeria però un tempo insomma faceva degli orologi ben studiati questo è stato per più di un mese dall'orologio mi è stato appunto regalato da mio nonno e aveva perso questi due indici in quanto erano stato erano stati semplicemente incollati quindi si erano staccati e l'orologio me li ha fatti rimettere e li ha saldati al laser come si può forse vedere più ho dovuto anche cambiare questi i pulsanti che originariamente erano in oro li ho appunto fatti mettere in acciaio e poiché quelli in oro sarebbero costati più dell'orologio stesso questo è un orologio interessante anche per il calibro che monta ancora preciso e dopo dopo anni è un lucire russia 7300 derivato dal valigiu e quindi insomma è un calibro assolutamente di rispetto e soprattutto per quelli che erano gli anni 90 77 50 dopo di che volevo mostrarti quest'altro acquisto che ho fatto i miei risparmi in quale ho appunto messo questo cinturino artigianale questo seiko alpinist che ho trovato veramente molto bello un po' più classico ma da mettere tutti i giorni anche vista appunto l'impermeabilità di venti bar essendo un prospects quadrante soleil lo trovo veramente particolare indice sfere oro e queste sfere appunto a cattedrale mi hanno colpito per eleganza ma anche per versatilità questo è un orologio che ho comprato veramente da poco ma che metto quasi tutti i giorni fondamentalmente il mio diciamo every day watch vai cinturino ci sta bene poi volevo mostrarti questo orologio è un emilton kekinevi questo è molto particolare lo reputo un orologio molto valido kekinevi soprattutto per la sua impermeabilità di 200 metri il fatto che sia un gmt mi piace molto è molto carino appunto un diametro di 42 mm che è assolutamente indossabile per il mio polso questo purtroppo mi ha dato parecchi problemi a livello di calibro si ferma veramente spesso ha assolutamente dei problemi perde circa 15 secondi al giorno anche dei problemi a livello estetico come puoi vedere un pallino un dot di luminova si è distaccato ore 3 e anche altri si sono distaccati in più l'orologiaio che mi aveva effettuato la prima revisione non era secondo me molto ferrato e quindi insomma ciò ha portato al distacco della massa oscillante e qualche settimana fa in più era stato lucidato a morte diciamo e quindi ho cercato di risatinarlo con le competenze insomma che ho acquisito lavorando orologi di più basso livello specialmente il bracciale devo dire che sono soddisfatto del lavoro cambiato la cassetta cioè fammi capire un orologiaio ti ha fatto ci ha messo le mani poi ti si è staccato il rotore ha perso gli indici come 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 ha lavorato costui non hai fatto alcuna rimostranza non ho capito ti sei messo a graffiato anche il bracciale ti sei messo a satinarlo da solo brutta esperienza mi dispiace però cavoli questo sicuramente andrà dall'orologio per una revisione completa è un service penso anche estetico in in futuro ma guarda valuta di mangiarlo direttamente all'assistenza ufficiale a questo punto che almeno te lo fanno tornare nuovo e costa poco di più di rispetto a un orologiaio che poi non sai dove da chi va in mano a chi va e volevo presentarti quelli che sono i pezzi forti della mia collezione iniziamo con con questo rolex è un rolex dei just detto turnograph appunto per la sua caratteristica di avere la lunetta questa è in oro bianco che è girevole senza scatti questo appunto per segnare diciamo intervalli di tempo applicando il triangolo sulla lancetta dei dei minuti si può andare a cronometrare diciamo in maniera molto molto approssimativa degli intervalli di tempo questo avuto un service completo come puoi vedere satinature e lucidature sono perfette questo mi è stato regalato per i miei 18 anni devo dire che è un orologio che apprezzo molto anche se purtroppo non lo indosso molto considerando che appunto vado all'università e spesso mi capita di prendere mezzi pubblici e non mi da di dare troppo nell'occhio e comunque insomma lo reputo un orologio assolutamente di livello non da mettere tutti i giorni per un ragazzo di appena 19 anni poi ti presento l'altro mio pezzo so che ultimamente diciamo hai rivalutato un po i panerai diciamo di base non sono i tuoi orologi preferiti questo appunto è un panerai lumino marina 300 metri di impermeabilità fondello è chiuso e appunto è come tutti i marina appunto questa a questo organo di chiusura che è brevettato panerai questo orologio che mi è stato regalato anch'esso per i miei 18 anni ne apprezzo le finiture superficiali assolutamente di livello il quadrante sandwich che devo dire a prezzo veramente parecchio la cura al dettaglio è assoluta è anche detto il frullatore il calibro di questo panerai perché non so se si può sentire ma la massa oscillante quando appunto gira fa un rumore molto molto forte inoltre questo appunto un orologio al quale ho montato questo cinturino essendo che appunto i panerai hanno un meccanismo di montaggio smontaggio di cinturini rapidi e questo è il suo cinturino in caociu e aveva anche il cinturino nell'alligatore nel bundle unica nota insomma di demerito è il fatto che non abbia lo scatto data rapido quindi spesso e volentieri bisogna mettersi a ruotare la la corona e passare le varie le varie ore di 24 ore in 24 ore per far cambiare la data e questo ovviamente non è non è piacevole detto ciò ti saluto davide mi faccio i complimenti per il tuo canale per come sta andando insomma la programmazione dei video pubblichi molti video ci tieni molta compagnia quindi per questo ti ringrazio e spero che la mia collezione ti sia piaciuta che tu l'abbia apprezzata e aspetto appunto un tuo feedback e un saluto e a presto a presto love 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 niente quando stavi parlando dell'emilton che hai portato dall'orologiaio che te l'ha rovinato e io ti ho consigliato l'assistenza ufficiale poi dentro di me ho pensato ma magari un ragazzo di 19 anni mandarlo all'assistenza ufficiale costa quelle 50 euro in più cosa gli ho consigliato a fare che magari è squattrinato no poi mi salti fuori che a 18 anni ti hanno regalato il rolex dj turnograph e il pane rai no e dico ma allora la famiglia la famiglia la sta bene perché a me 18 anni ma sono scappellotto e mi hanno detto vai cammina hai capito quindi il fatto di averti consigliato l'assistenza ufficiale per emilton tutto sommato non è così sbagliato i soldini ce li avete in famiglia mandalo a riparare direttamente l'assistenza ufficiale che ti torna nuovo senza stare a tribolare da un orologiaio che te lo graffia da uno che ti fa se non ne hai uno di fiducia e vai a caso rischi anche di beccare i cani bau bau come si suol dire il resto parte il lucian rochette che non si può vedere e quale ha fatto delle modifiche mi sembrava anche la corona diversa da meglio orologi 19 anni c'era una marea di orologi per aver 19 anni complimenti dai ragazzi mi sembra di aver detto tutto io io vi ringrazio per essere arrivati fino qua aver guardato i video con me spero vi sia piaciuto il video i video gli orologi nel video il presentatore che presentava il video vi ricordo gli appuntamenti finissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao ciao Grazie a tutti.